Di là poi c'è un'altra cameretta, ma è talmente piccola che non gliela faccio nemmeno vedere. È proprio uno sgabuzzino. Sì. Comunque questo appartamento per domani, se lei vuole, è suo. È libero. Io la ringrazio molto, ma trovo che lei l'ha personalizzato un po' troppo. Beh, mi dispiace, cosa vuole. Eh, ci penso, eh. Prego. Arrivederci. Attento al gradino. Grazie. Mi faccio vivo io. Arrivederci.